All'interno di questo nuovo ciclo cambia anche qualcosa nelle dinamiche della dirigenza della Juventus Cristiano Giuntoli l'estate scorsa arrivò sostanzialmente da solo per tutto l'anno ha studiato la struttura oggi ha decisamente le idee più chiare su cosa fare e dove intervenire per rendere la Juventus del futuro prossimo più vicina alle sue idee abbiamo sempre parlato della possibilità che adesso diventa concreta che insomma il dirigente venisse raggiunto da uomini di fiducia personaggi che hanno sempre lavorato con lui o comunque hanno trascorso con lui buona parte della carriera e ciò avverrà è ormai questione di giorni però io credo sia molto più importante in questo momento rendersi conto dei pilastri di questa nuova struttura dirigenziale perché la prima cosa che mi salta gli occhi è che ritengo la nuova struttura della Juventus sia molto più sbella con meno figure di riferimento ma ciascuna di queste figure che adesso andremo a vedere probabilmente avranno più potere decisionale all'interno dell'operatività della Juventus dalla prima squadra a tutti gli altri settori che ruotano attorno e che sono ovviamente all'interno dell'area sportiva della Juventus ovviamente a capo dell'area sportiva della Juventus c'è Cristiano Giuntoli che è stato scelto dalla proprietà per dare inizio ad una nuova epoca bianconera Cristiano Giuntoli sarà raggiunto sostanzialmente da tre collaboratori storici ma c'è una quarta figura chiave che rappresenta un po' la storicità della Juventus all'interno della dirigenza andiamo con ordine abbiamo sempre parlato di Giuseppe Pompilio come il braccio operativo di Cristiano Giuntoli è l'uomo d'ordine è colui che insomma occupandosi di questioni relative alla segreteria ai contratti dei giocatori e avendo anche un'operatività attiva nell'ambito delle trattative quantomeno nella prima parte dei contatti con i vari giocatori e loro entourage Giuseppe Pompilio rappresenta davvero una grossa parte dell'operatività di Cristiano Giuntoli badate bene che l'estate scorsa quando De Laurentiis decise un po' controvoglia di liberare in anticipo Cristiano Giuntoli gli negò la possibilità però di essere raggiunto sin da subito da Giuseppe Pompilio con la consapevolezza che avrebbe limitato molto l'operatività di Cristiano Giuntoli alla Juventus in questo primo anno adesso Giuseppe Pompilio è in procinto di lasciare il Napoli e a scadenza di contratto e raggiunge Cristiano Giuntoli per questa sua nuova avventura in bianco nero dove ripeto sarà sostanzialmente il vicario del capo dell'area sportiva della Juventus l'altra figura chiave per quanto riguarda il mercato della prima squadra con un'estensione all'area scouting un po' come fece Giovanni Manna da vice Giuntoli negli ultimi mesi prima ovviamente di interrompere il suo rapporto con la Juventus ecco questa nuova figura chiave è Stefano Stefanelli direttore sportivo reduce da un'esperienza stagionale al Pisa la passata stagione era al Cesena in passato ha lavorato già con Cristiano Giuntoli e al Carpi e anche al Napoli avendo una responsabilità diretta sull'Under 19 e questa è una cosa che ci tornerà utile tra un po' per andare ad approfondire un altro incarico Stefanelli sostanzialmente sarà il vice direttore sportivo con responsabilità diretta sul mercato sarà il riferimento per l'allenatore ovviamente anche per la squadra e avrà questo braccio operativo sull'area scouting affinché insomma anche questo settore possa avere un riferimento preciso che vada poi al riporto di Cristiano Giuntoli l'altra figura, la terza figura, il terzo pilastro della Juventus di Cristiano Giuntoli è rappresentato da Michele Sbravati che non ha esperienze recenti con Cristiano Giuntoli ma è un suo ex compagno di squadra sin dai tempi dell'Imperia i due hanno giocato insieme e c'è un ottimo rapporto oltre che una stima reciproca tra loro e Michele Sbravati è reduce dall'esperienza di responsabile del settore giovanile del Genoa anche questo è un'indiscrezione che circola da un po' di tempo la novità però è che si sarebbero già avviate le procedure per interrompere il rapporto di lavoro tra Sbravati e il Genoa a questo punto insomma il dirigente è pronto per firmare con la Juventus e andare a prendere la responsabilità del vivaio o bianconero questo perché Massimiliano Scaglia dovrebbe comunque rimanere alla Juventus ma con una responsabilità diretta sulla formazione primavera e qui insomma ci ritorna utile il disegno che Cristiano Giuntoli in qualche modo aveva già fatto a Napoli per capire quali sono le logiche operative che insomma ama con cui ama lavorare il direttore della Juventus questo insomma è un indicatore che ci dà insomma il riferimento rispetto agli incarichi e al valore che insomma ha aggiunto lì associa agli incarichi che dà ai suoi collaboratori Scaglia dunque dovrebbe prendere in mano la direzione sportiva esclusivamente dell'Under-19 con un punto interrogativo che io credo sarà sciolto a brevissimo perché la Juventus in questi anni non ha mai allestito una formazione Under-18 anche per anticipare il percorso di crescita dei propri giovani che possono sfruttare la sponda della Next Gen, della seconda squadra e quindi in primavera la Juventus schiera ai sotto età questo però nell'ultima stagione con la sticella che ha alzato la media di età ha creato qualche problemino alla Juventus per la sostanziale differenza che c'è soprattutto in termini di fisicità tra giocatori che hanno 2-3 anni di differenza spesso e volentieri e quindi io credo la Juventus stia anche valutando la possibilità di allestire un Under-18 laddove possano trovare spazio magari i ragazzi che escono dal campionato Under-17 magari ancora fisicamente non sono pronti per giocare in primavera o comunque l'Under-18 potrebbe essere quel cuscinetto utile per consentire a chi non gioca tanto in Under-19 di avere una sponda su questa Under-18 diciamo che l'Under-18 potrebbe essere la seconda squadra della primavera e fare un po' quello che la seconda squadra, la Nick Gen, fa alle spalle della prima squadra potrebbe essere questo il disegno con una responsabilità appunto della categoria Under-18 che potrebbe essere associata al responsabile della categoria primavera e dunque in Massimiliano Scaglia è un qualcosa che dobbiamo andare a verificare nei prossimi giorni i nuovi pilastri della Juventus di Cristiano Giuntoli però possiamo individuarli in Pompilio, Stefanelli e Sbravati la quarta figura chiave della Juventus di Cristiano Giuntoli rappresenta la storia perché stiamo parlando di Gianluca Pessotto cioè l'uomo che negli ultimi mesi, nel momento delicato del club bianconero è stato molto vicino a Cristiano Giuntoli così come era stato in passato vicino a Massimiliano Allegri lo è stato anche negli ultimi mesi soprattutto nella seconda parte di questa stagione nei momenti complessi Gianluca Pessotto sostanzialmente conosce la Juventus conosce ogni tipo di dinamica interna al club è sicuramente il dirigente con maggiore autorevolezza per la storicità che ha all'interno della struttura per unire un po' i due mondi che spesso rischiano di andare in parallelo e di non venire mai a contatto la Juventus credo sia stata brava in realtà a far parlare il settore giovanile è la prima squadra negli ultimi anni però insomma non è una cosa consueta nel calcio italiano e questo credo sia un grosso problema in ogni caso Pessotto ha davvero chiare le idee su tutto quello che è la Juventus a partire dalle categorie giovanili più basse fino ad arrivare alla prima squadra e dunque credo il quarto pilastro della Juventus di Cristiano Giuntoli venga rappresentato proprio da Pessotto che a differenza degli altri di Pompilio, Stefanelli e Esbravati ha ben chiara tutta la storicità della struttura interna alla Juventus una struttura che insomma ha all'interno circa 800 dipendenti quindi è sicuramente una struttura che ha tante dinamiche insomma il riferimento di Pessotto accanto a Cristiano Giuntoli potrà sicuramente rappresentare un valore aggiunto laddove servisse il conforto di qualche consiglio e non solo ovviamente nell'operatività quotidiana io credo ma mi sono già esposto ve ne ho già parlato che presto ci sarà anche l'opportunità per Giorgio Chiellini di cominciare una esperienza da dirigente alla Juventus Chiellini fino a luglio sarà negli Stati Uniti poi rientrerà io credo nel giro di qualche mese anche lui potrà avere l'opportunità di avviare la sua nuova esperienza da dirigente alla Juventus il suo percorso di studi in management mi lascia pensare che il suo possa essere un ruolo più manageriale però insomma è chiaro che bisognerà fare un percorso di inserimento ma se parliamo di dirigenti che possono dare una mano alla struttura Juventus chi meglio dell'ex capitano bianconero ditemi un po' voi cosa ne pensate di tutte queste notizie prima di salutarvi come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale e anche di attivare la campanella delle notifiche